Johnny! Johnny! Sono i tempestini! Andiamo, apri! Arrivo! Johnny, 3 settembre ci sei? I 3 e i 4 E non lo so, vada, i 3 settembre mi dici, perché... No, ora non te lo so, vada, eh, non lo so Ma che c'è? I 3 e i 4? Non mi apri Come che c'è? I comics? No, non ne so nulla 3 e 4 settembre, Firenze Comics, c'è anche a Toscana Madre Maia Ah, ho capito, allora ci sono, senti, ora c'ho il sugo da spengere, c'ho la cappa La vero, non ne vada a spengere in cucina perché... Allora ti lascio i Declan di Firenze Comics, non ti può mancare C'ho da andare a spengere la cappa, andiamo Tieni, ricordati, 3 e 4 settembre, Firenze Comics Va bene, se mai ci si vederà Johnny, i 3 e 4 ti s'aspetta, perché non tu vieni vestito da Jack Sparrow Sabato e domenica, 3 e 4 settembre, Firenze Comics E sabato sera, 3 settembre, Toscana Maremma Maiala Show Ciao! Ciao!